Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta cremosa con mortadella e pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, formaggio spalmabile, mortadella tagliata a cubetti, olio evo, sale, pepe, pesto di pistacchi, parmigiano grattugiato e granella di pistacchi. Andiamo il via alla ricetta. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale l'olio e la mortadella ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il formaggio spalmabile, il sale e il pepe. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il pesto di pistacchi, il parmigiano grattugiato, il parmigiano grattugiato, e ad azionare il bimbi per 2 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Condire la pasta, spolverizzare con granella di pistacchi e servire. Pasta cremosa con mortadella e pistacchi. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie! 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 Grazie!